La Fortezza Medicea di Arezzo apre le porte ad una nuova esposizione accogliendo le lettere in blu di Raffaello Luci. L'allestimento con le opere del maestro Aretino è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo e con il Comune. L'esposizione, curata da Carlo Sisi, rimarrà visitabile fino al 22 ottobre. È un artista complesso, è un artista che lancia molti messaggi dalle sue opere, uno forse fondamentale, più importante di altri proprio oggi è quello sulla spiritualità, condita con quella forma di ironia che deve far parte sempre comunque della nostra vita per superare in maniera passabile il quotidiano. Questa mostra chiude poi l'intervento della Fondazione sull'arte dopo la mostra di Afro, di Sean Shannon e vorrei ricordare anche il Museo dell'Oro che ha avuto il riconoscimento di museo di importanza regionale. Cosa è possibile vedere all'interno di questa esposizione per quanto riguarda le sue opere? Qui ho avuto l'opportunità di poter mettere, esporre delle opere che sono un condensato, un riassunto di un sito, un luogo nel web che ho creato, in modo che il visitatore interessato può iniziare il percorso qui e continuarlo con dovizia di particolari se vuole nel sito.